Musica Arrestato 21enne di Mazzara per rapina aggravata E' mazzarese l'autore dell'incendio di un'auto a Castelvetrano la notte di Halloween Il presidente Mattarella presenzierà la cerimonia per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Belice La giunta comunale di Mazzara ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche Si intensifica la videosorveglianza a Mazzara Questa mattina i primi nati del 2018 all'ospedale Abeleiello di Mazzara Ben ritrovati al TG8 Informazione Apriamo con la cronaca La polizia ha tratto in arresto un mazzarese di 21 anni per rapina aggravata in un esercizio commerciale Sentiamo il servizio Alle 15.50 del 2 gennaio 2018 Personale del commissariato di pubblica sicurezza di Mazzara E' intervenuto in via Castelvetrano Per una segnalazione relativa alla commissione di una rapina in esercizio commerciale Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che un individuo avvolto scoperto e armato di coltello Fingendosi un cliente Entrava all'interno del negozio E presentatosi alla cassa Intimava al titolare, cittadino cinese di 27 anni, di consegnargli l'incasso Non appena il titolare apriva la cassa Il malfaltore commossa fulmine Riusciva a prendere tutte le banconote per un totale di 280 euro Completata l'azione delittuosa Il giovane si dileguava Subito sono state avviate approfondite indagini Anche con l'ausilio del personale della locale sezione di polizia scientifica Arricchite dalla consultazione dei sistemi di videosorveglianza Installati nell'esercizio commerciale L'analisi dei relativi filmati ha permesso di giungere in breve tempo alla certa identificazione Dell'autore del grave reato Il cittadino mazzarese Giampiero Laudicina di 21 anni Con svariati precedenti di polizia per reati contro il patrimonio Soprattutto con modalità violente Attualmente sottoposto alla misura cautelare Dell'obbligo di dimora nel comune di Mazzara del Vallo E dell'obbligo di firma Nell'ambito di un altro procedimento penale Per reati analoghi E' stata pertanto prontamente organizzata Una capillare attività di ricerca Nei luoghi solitamente frequentati dal soggetto E nei paraggi dell'abitazione Giampiero Laudicina veniva rintracciato nella propria abitazione Dove veniva sottoposto a perquisizione personale e locale E venivano rinvenuti il coltello utilizzato nella rapina E i capi di abbigliamento indossati Conseguentemente Il Laudicina veniva tratto in arresto Nella quasi fragranza di reato di rapina aggravata Completata la redazione dei relativi atti di polizia giudiziaria Come disposto al pubblico ministero di turno Laudicina è stata condotta presso la casa circondariale di Trapani In attesa della convalida dell'arresto E del giudizio direttissimo Nel pomeriggio del 30 dicembre scorso I carabinieri della compagnia di Castelvetrano Con il supporto dei colleghi di Mazzara del Vallo Hanno dato esecuzione ad un provvedimento Di divieto di avvicinamento alla persona offesa A carico di un 53enne mazzarese già noto alle forze dell'ordine L'attività di indagine avviata dai militari della stazione carabinieri di Castelvetrano Diretta e vagliata dall'autorità giudiziaria marsalese Ha permesso di raccogliere numerosi indizi di reità a carico dell'indagato Identificato come autore dell'incendio di un'auto Lo scorso primo novembre In via caduti di Nassiria Nel parcheggio del centro commerciale Centesimo Le fiamme che hanno danneggiato anche altri mezzi parcheggiati Nelle immediate vicinanze sono state estinte dai vigili del fuoco Il gesto ha avuto presumibilmente un movente Derivante da dissidi privati tra il 53enne e il proprietario del mezzo bruciato I carabinieri di Trapani hanno neutralizzato tempestivamente Un tentativo di rapina ad opera di tre giovani Che sono stati tratti in arresto Sentiamo L'assidua ed interrotta presenza sul territorio da parte dell'arma dei carabinieri di Trapani Soprattutto in questi periodi di festività Ha consentito di neutralizzare tempestivamente Un tentativo di rapina ad opera di tre giovani Nella tarda serata del primo gennaio Infatti sono finiti in manette con l'accusa di tentata rapina in concorso Tre soggetti Due minorenni rispettivamente di 17 e 16 anni E un maggiorenne Patrick Vitale di 19 anni Tutti trapanesi I quali tramite ripetute ed insistente minacce Cercavano di sottrarre del denaro ad un uomo che stava percorrendo a piedi la via Fardella La vittima una volta raggiunta ed accerchiata dai tre ragazzi Comprendendo immediatamente la gravità della situazione Non esitava a contattare il numero di emergenza per richiedere aiuto La scelta si rilevava fin dall'inizio la migliore In quanto la richiesta al 112 Metteva in fuga i tre giovani che si allantonavano rapidamente Tempestivo l'intervento dei militari dell'arma dell'aliquota radio mobile Della compagnia carabinieri di Trapani Che in pochi istanti raggiungeva il richiedente Il quale nonostante il grande spavento Riusciva a mantenere la lucidità mentale Per dare una descrizione dettagliata e minuziosa dei tre rei La presunta età e i dettagli sugli indumenti indossati dai tre giovani Forniti dal malcapitato Consentivano ai militari intervenuti di localizzare e fermare con efficacia A poche centinaia di metri di distanza Gli autori del reato I quali avevano già focalizzato l'ennesima vittima Condotti in caserma al termine delle formalità di rito Su ordine dell'amministrazione giudiziaria Il vitale veniva posto in regime degli arresti domiciliari Presso la propria abitazione Mentre due minorenni venivano accompagnati Presso il centro di prima accoglienza per minori Malaspina, sito in Palermo Dove rimarranno a disposizione della magistratura In attesa dell'udienza di convalida Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella Presenzierà la cerimonia inaugurale Delle celebrazioni dedicate al 50esimo anniversario Del terremoto della Valle del Belice Che si terrà domenica 14 gennaio alle ore 11 Nell'auditorium Giacomo Leggio di Partanna Alla cerimonia inaugurale Oltre al capo dello Stato Sarà presente anche il ministro per la coesione territoriale E il mezzogiorno Claudio De Vincenti A darne notizie il coordinatore dei sindaci della Valle del Belice E sindaco di Partanna Nicola Catania Operazione Caliente Giro di prostituzione tra Marsala e Mazzara Il Tribunale di Marsala emette sei condanne patteggiate E due rinvie a giudizio Sentiamo È approdata già sentenza l'indagine caliente Anni Equadoregna A Filippo Trapani di 61 anni E a Pietro Lombardo di 30 anni Ad un anno e dieci mesi è stato invece condannato Francesco Tumbarello di 60 anni Ad un anno e due mesi Matteo Giacalone di 66 anni Pregiudicato ed ex collaboratore di giustizia A quattro mesi Augustin Didia di 28 anni romeno Quest'ultimo accusato solo della cessione di marijuana Da utilizzare con i clienti durante le prestazioni sessuali Sono stati poi rinviati a giudizio Prima udienza davanti il Tribunale di Marsala Fissata per il prossimo 8 febbraio Alvesh Eliane Marcelino Di 42 anni Brasiliana E Anna Rita Donato Di 49 anni Quest'ultima accusata di aver affittato a Marsala Un appartamento all'Ernandez Che secondo l'accusa avrebbe gestito il giro di squillo Insieme a Filippo Trapani Che sarebbe stato il suo braccio destro Quando lei non era a Marsala Diversi gli appartamenti sequestrati in ottobre dei Carabinieri Le case a luce rosse erano quasi tutte nel centro di Marsala Per due appartamenti adesso il gruppo Parrinello ha disposto il dissequestro A reclutare ragazze brasiliane sarebbe stata anche Alvesh Eliane Marcelino Altri appartamenti sarebbero stati messi a disposizione da Pietro Lombardo e da Francesco Tumbarello Quest'ultimo titolare di un'agenzia immobiliare di Marsala Patteggiando i sei condannati hanno potuto usufruire dello sconto E degli altri benefici previsti dalla legge Nonché evitare pene che potevano essere ben più severe se si andava al dibattimento Altro fattore che ha determinato pene non troppo elevate È stata la decisione del pubblico ministero Antonella Trainito Di chiedere al GUP l'archiviazione dell'iniziale contestazione di associazione per delinquere All'Ernandez e a Trapani però il PM ha contestato il rialto di tentata estorsione I due in alcune occasioni avrebbero minacciato le ragazze che si prostituivano chiedendo loro denaro La nuova accusa sarebbe scaturita dalle dichiarazioni rese dopo l'arresto del giacalone L'onorevole Sergio Tancredi e Nicolò Lagrutta, consigliere comunale di Mazzara del Movimento 5 Stelle Chiedono all'assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica Di verificare le azioni poste dal comune di Mazzara del Vallo Nei confronti dei lavoratori precari dello stesso ente Considerato che vi sono circa 180 lavoratori precari mai stabilizzati Nonostante siano in forza dell'ente da diversi anni Contrariamente a quanto previsto dalle normative vigenti Ai due esponenti grillini è stato segnalato che il comune di Mazzara Farebbe circolare istanze liberatorie con le quali i lavoratori precari rinuncerebbero Al risarcimento riconosciuto loro dalla Corte d'Appello di Palermo Con sentenza numero 1204 del 2017 Affinché gli stessi possano ottenere la proroga del rapporto lavorativo con l'ente Intendendo concorrere al procedimento di stabilizzazione preannunciato dall'amministrazione comunale Pertanto chiedono agli uffici competenti di adoperarsi celermente Al fine di verificare l'operato dell'amministrazione comunale di Mazzara Dato che attraverso il proprio operato sembrerebbe porre in essere comportamenti poco trasparenti Nei confronti di tutti quei lavoratori precari posti sotto scasco dall'amministrazione Guerra del pesce, una roadmap per una gestione condivisa del mammellone Sentiamo i particolari nel servizio Intensa in questi mesi è stata l'attività del distretto della pesca e crescita blu Attraverso il suo braccio scientifico, l'osservatorio della pesca del Mediterraneo E nell'ambito del coordinamento filiera ittica Mazzara Per rafforzare la cooperazione trasfordaliere e limitare il contenzioso in atto Fra Italia e Tunisia a causa dei continui sequestri di pescrecci siciliani Nel cosiddetto mammellone Negli ultimi mesi infatti si è assistito ad un rinnovato, per quanto pericoloso Ricorso alle armi da parte delle autorità militari che controllano la zona L'attività si è articolata in diversi momenti ed ambiti La delegazione del distretto della pesca e crescita blu Ha incontrato a Tunisi vari esponenti delle alte istituzioni tunisine In seguito ad una interlocuzione con il presidente del Parlamento europeo Onorevole Antonio Tajani e il suo staff Anche a nome del coordinamento filiera ittica È stata rimarcata la necessità di una revisione delle regole E della delimitazione del mammellone D'altra parte le mutate condizioni batimetriche dell'areale di mare in questione Ed i risultati scientifici raggiunti Impongono infatti una semplificazione attraverso una nuova delimitazione dell'area protetta E soprattutto di nuove regole gestionali Nel rispetto dell'ambiente E per la rigenerazione delle risorse marine Secondo i principi della Blue Economy Con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione marittima fra i due paesi E con i partner del Mediterraneo centrale ad ogni livello Ciò è indispensabile a prevenire incidenti Che rischiano di inficiare il difficile, complesso Cammino che l'Europa, l'Italia, la Sicilia e la Tunisia Hanno intrapreso sinergicamente su molti fronti Il coordinamento filiera ittica Mazzara Si è pure riunito presso gli uffici della Capitaneria di Porto di Mazzara Per acquisire dati ed informazioni tecniche Relativa alle note criticità in acque internazionali Ove insiste il cosiddetto Mammellone Incontro preparatorio per i temi da trattare Nella sessione internazionale dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo Sul tema il presidente del distretto Tumbiolo Ha riferito al presidente del Consiglio dei Ministri Onorevole Paolo Gentiloni Che è intervenuto presso le massime autorità politiche della Tunisia Al fine di avviare una migliore interlocuzione Sul piano della cooperazione trasfrontaliera e marittima La sessione internazionale dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo Coordinato dall'ingegner Giuseppe Pernice Ha affrontato le materie in una prospettiva multilaterale Infatti ai lavori hanno partecipato oltre ai componenti dell'Osservatorio I rappresentanti del Ministero degli Esteri della Regione Siciliana Il Vice Ministro della Pesca della Repubblica di Malta Il Sottosegretario di Stato della Tunisia Il Sottosegretario di Stato e Fischering Authority dell'Egitto Da tutti è stata invocata la rotta obbligata Della cooperazione scientifica e tecnico-produttiva Fra le sponde nord e sud del Mediterraneo Attraverso l'elaborazione di piani di gestione E di progetti condivisi nell'ambito della Blue Economic Zone La buona volontà e la concreta possibilità Che si possa arrivare ad una precisa ridefinizione geografica E di gestione del Mammellone E degli altri areali di pesca del Mediterraneo centrale È stata confermata dalla successiva missione presso il distretto siciliano Da parte delle più alte istituzioni della pesca tunisina I quali hanno visitato la sala operativa della Capitaneria di Porto di Mazzara del Vallo Ove hanno potuto verificare l'attività di controllo svolta dalla Marina Italiana E l'alto livello di qualificazione e professionalità In ordine alla tutela e salvaguardia degli operatori marittimi Di tutto il vecino Mediterraneo La delegazione tunisina ha avuto un costruttivo momento di confronto Sull'importanza della gestione comune degli areali di pesca E delle risorse del mare secondo i principi della Blue Economy Il sottosegretario tunisino alla pesca Ha proposto l'istituzione di una commissione mista interdisciplinare Composta da esperti dei due paesi Al fine di trovare soluzioni tecniche con beneficio reciproco Il segretario generale della Will Funzione Pubblica Trapani Giorgio Macaddino Esprime preoccupazione per lo spostamento degli uffici polifunzionali SEUS Servizio di emergenza urgenza 118 Da Trapani ad Agrigento Per le conseguenze negative per gli utenti del Trapanese Che questo potrebbe comportare Nella precedente gestione a ferma Si verificava raramente la chiusura delle postazioni 118 Per mancanza di personale Il passaggio ad Agrigento lo definirei da Guinness dei primati In soli tre giorni la prima ambulanza ferma per assenza di personale Sembra uno scherzo ma è quello che oggi accade a Mazzara del Vallo La cittadinanza mazzarese si trova con un'ambulanza meno per mancanza di personale Di chi sono le responsabilità e chi paga eventuali conseguenze Macaddino si rivolge pertanto all'amministrazione della SEUS Al presidente della regione, all'assessore alla salute Per chiedere di intervenire per evitare disagi ai cittadini mazzaresi E di allontanare coloro che non riescono a portare avanti il lavoro per cui sono pagati Ci chiediamo altresì, scrive Macaddino Se questa società di gestione paga penali per questa carenza Ed eventualmente a chi vengono addebitate Ci risulta anche che in un servizio secondario L'antincendio Trapani Con la presente gestione vi sono le stesse problematiche La giunta di Mazzara ha approvato il piano delle opere pubbliche 2018 Ammontano a circa 32 milioni di euro gli investimenti previsti dall'amministrazione comunale Nell'elenco annuale delle opere pubbliche 2018 Che è stato approvato nell'ultima seduta del 2017 della giunta municipale Il piano delle opere pubbliche 2018 e il piano pluriennale 2018-2020 Sono stati trasmessi alle commissioni competenti E al collegio dei revisori per i pareri di legge E muniti di tali pareri saranno trasmessi al consiglio comunale per l'approvazione definitiva L'amministrazione comunale prevede tempi brevi anche per l'approvazione del bilancio Ma sentiamo l'assessore ai lavori pubblici Silvano Bonanno L'amministrazione comunale di Mazzara e Vallo è molto soddisfatta Perché forse per la prima volta è stato approvato il piano delle opere pubbliche 2018-2020 Il 31 dicembre del 2017 Quindi voglio dire che con questo noi siamo riusciti a fare un lavoro ambizioso E un lavoro che sicuramente darà dei risultati Quali sono le opere più importanti? Abbiamo voluto dare importanza al problema dell'acqua che c'è a Mazzara Ampliando dal punto di vista di diametro la condotta idrica che porta da San Nicola fino a via Treviso Sono un importo di 880 mila euro e 4 chilometri e 800 metri Che risolveranno questo problema di approvvigionamento idrico Abbiamo preso come punto riferimento le scuole Ci sono investimenti per circa 3 milioni di euro Che riguardano le scuole e la messa in sicurezza di molte scuole Nella città di Mazzara del Vallo E poi ci sono le stesse opere di molti anni Che purtroppo sono commissariate E che ancora la Regione non riesce a sbloccare con la gara Mi riferisco alla rete fognaria con fondi cipe di 23 milioni di euro Mi riferisco al completamento del deburatore di Mazzara del Vallo Per 3 milioni di euro Mi riferisco anche al collegamento da Piazza Gian Battista Quinci fino al depuratore della condotta fognaria Aggiungiamo anche un milione di euro per la manutenzione delle strade Molte strade della città di Mazzara saranno asfaltate E questo darà un benessere e un miglioramento della ricordata della vita dei cittadini di Mazzara Lavori strada provinciale Mazzara Torretta Per l'assessore Bonanno Incomprensibile il silenzio del libero consorzio Sentiamo quanto ha dichiarato Esiste un problema che è incomprensibile La Mazzara Torretta, l'SP38 Io ricordo che ero consigliere provinciale E sono stato il primo firmatario In un documento che inseriva l'SP38 nel piano annuale delle opere pubbliche Credo che siano passati circa 10-11 anni Ancora questa realtà importantissima per la città di Mazzara del Vallo Rimane incompiuta Abbiamo più volte fatto note alla provincia E adesso all'ex consorzio della provincia di Trapani E non abbiamo avuto nessuna risposta Noti anche con diffida perché esiste non soltanto il problema turistico di questo tratto stradale Ma anche esiste un problema di pericolosità E' molto pericoloso Ultimamente l'altro ieri abbiamo mandato un'otterra nota al commissario Delle consorzio della provincia di Trapani Insieme alle altre due note del 4 giugno del 2016 e del 17 gennaio del 2017 Nel quale ripetiamo e ribadiamo sempre la pericolosità E l'importanza strategica turistica di questo tratto E non comprendiamo come mai non venga sbloccato l'itere burocratico per avviare i lavori Ritengo che noi aspettiamo con ansia che venga fissata la data dell'elezione alla provincia Così saremo noi andando a risolvere questo problema con il presidente Cristaldi Che sicuramente si candiderà alla presidenza della provincia La nostra amministrazione garantirà il servizio di mensa sociale nei locali del Boccone del Povero Anche per tutto il 2018 grazie alla collaborazione con l'Associazione Maria Santissima del Paradiso Onlus Lo ha detto l'assessore comunale alle politiche sociali di Mazzara Anna Monteleone Annunciando che la giunta municipale ha approvato nell'ultima riunione dell'anno La concessione di una sovvenzione economica per tutto l'anno 2018 All'Associazione Maria Santissima del Paradiso Onlus Per il concorso alle spese sostenute per l'acquisto delle derrate alimentari E l'occorrente per l'erogazione del servizio sociale della mensa Che si avvale di volontari che con grande entusiasmo e naturalmente in maniera del tutto gratuita Cucinano e distribuiscono pasti caldi dando anche una parola di conforto a chi ha bisogno La sovvenzione ammonta 1.100 euro mensili per 11 mensilità Per un totale di 13.200 euro annui In quanto per il solo mese di agosto l'erogazione dei pasti è garantito dall'impresa giudicataria del servizio di mensa scolastica Il servizio di mensa sociale della quale usufruiscono le persone in stato di disagio economico accertato dai servizi sociali del comune Viene garantito dal lunedì al sabato a cena Sia attraverso la preparazione di pasti caldi che gli utenti consumano direttamente nei locali del boccone del povero Sia attraverso la preparazione di pasti da asporto che molti utenti ritirano per consumare la cena in famiglia Si intensifica la videosorveglianza a Mazzara Circa 200 telecamere saranno operative nel territorio entro giugno Lo ha detto il sindaco di Mazzara del Vallo, Onorevole Cristaldi Nel corso di una riunione operativa alla centrale di protezione civile Con i dirigenti della polizia municipale e del settore lavori pubblici I coordinatori dell'ufficio Aro e della squadra Attila Nel corso della riunione, oltre ai temi della sicurezza, è stato fatto il punto sulla raccolta dei rifiuti Rallentata dalla chiusura nei festivi delle discariche di Siculiane Trapani E da problemi tecnici alla stessa discarica di Trapani Ascoltiamo le dichiarazioni del sindaco Nicola Cristaldi e del comandante della polizia municipale Coppolino Intensifichiamo il servizio, nel senso che incrementeremo il numero delle telecamere Ma faremo anche un servizio collegato al servizio stesso delle telecamere Cioè degli interventi, tra virgolette, repressivi Che in un certo senso devono aiutarci a scoraggiare la gente A compiere atti che non sono leciti, non sono legittimi, non sono corretti Non sono giusti e non sono rispettosi della stragrande maggioranza della nostra popolazione Abbiamo un problema di sicurezza, ma abbiamo anche un problema legato al deposito dei rifiuti in maniera disordinata La gente butta di tutto, la gente non si avvale delle strutture comunali esistenti Se penso per esempio al deposito dei rifiuti ingombranti Penso alla possibilità di depositarli gratuitamente nel centro di via Marsala La gente non lo fa, evidentemente tutta questa nostra azione è un'azione di deterrenza Ma qualora l'azione di deterrenza non serva, occorre arrivare alla repressione Dobbiamo portare Mazzara del Vallo ad essere sempre più normale possibile Non ci sono grandi sacrifici da fare, ci sono tutti i servizi che sono predisposti In questo momento abbiamo problemi legati alla vicenda della discarica Per cui il servizio non è efficiente come piacerebbe a noi Ma per la parte che riguarda l'amministrazione comunale Stiamo facendo quanto più possibile una strada corretta e legata ai buoni risultati Ma i cittadini devono collaborare E tutte le strutture che stiamo montando sono collegate all'incoraggiamento Alla collaborazione e a scoraggiare coloro che del lecito non sanno fare una pratica quotidiana La situazione attuale per quanto riguarda la videosorveglianza Noi abbiamo già in funzione con il progetto Mazzara Sicura Circa 70 telecamere già funzionanti Abbiamo altre telecamere già piazzate in punti strategici Per quanto riguarda i rifiuti e alcune situazioni particolari Stiamo in itineria e stiamo già montando altre telecamere Per mettere in sicurezza tutti gli edifici pubblici Nonché le strade del centro storico E dentro qualche mese c'è un progetto che è già partito Saranno messe in sicurezza con un sistema di videosorveglianza Tutte le scuole comunali della nostra città Questo è un impegno che l'amministrazione comunale aveva già preso E che noi come Polizia Municipale stiamo portando avanti Primi nati del 2018 all'ospedale Abelaiello di Mazzara Questa mattina nell'unità operativa di ostetricia e ginecologia Diretta dal primario Pietro Musso Ci sono susseguiti due parti Alle 7.14 la signora Concetta di 38 anni ha partorito Cristal di 3,90 kg Mentre alle 9.30 è nata Cugia Sil dalla 23enne Shaima dal peso di 2,6 kg L'amministrazione comunale esprime il proprio compiacimento Per il lavoro che viene svolto dall'equip diretta dal professore Musso E formula gli auguri alle famiglie dei due neonati a Mazzara del Vallo Il critico d'arte e scrittore Vittorio Sgarbi sarà a Marsala domani Alle ore 19 per la presentazione del suo nuovo libro Dal mito alla favola bella da Canaletto a Boldini Il tesoro d'Italia quinto L'appuntamento culturale che si svolgerà a Palazzo Uffici E patrocinato dall'amministrazione di Girolamo Nell'ambito dell'evento Erice Natale Il Borgo dei Presepi è stato molto apprezzato Ieri sera al teatro Gebel Hamed Ad Erice il concerto di Nicola Giammarinaro E la Sicily Dixieland Band Che rappresenta il legame naturale tra la tradizione bandistica siciliana E il jazz delle origini E continuano gli appuntamenti di Erice Natale All'insegna della sicilianità Questa sera l'appuntamento è alle 18 Al teatro Gebel Hamed con Mimmo Cuticchio Il più importante erede della tradizione dei contisti siciliani E dell'opera dei pupi Che porterà in scena la Pazzia di Orlando Ovvero il meraviglioso viaggio di Astolfo sulla Luna Tutti gli eventi del cartellone di Erice Natale Sono ad ingresso gratuito Da domani 5 gennaio fino al 7 gennaio A Custonaci ritornerà il Presepe Vivente Nella suggestiva Grotta Mangiapane Sentiamo Dal 5 al 7 gennaio a Custonaci Ritornerà il Presepe Vivente Nella suggestiva Grotta Mangiapane Un cast composto da oltre 160 interpreti Tra artigiani e artisti provenienti dall'intera isola Maestranze contadine e figuranti locali Sarà possibile assistere a un vero e proprio set cinematografico In scena oltre alla nascita di Gesù e alla Sacra Famiglia Rappresentazioni del lavoro artigiano E rurale con suoni, odori e colori La biglietteria del Presepe Vivente Sarà aperta nel centro storico di Custonaci Dalle 16 alle 20 Il costo dei ticket 5 euro per i bambini dai 4 ai 10 anni 10 euro per gli adulti Gratis per i bambini da 0 a 3 anni I tagliandi si possono anche acquistare Con uno sconto di 50 centesimi Sul sito www.presepecustonaci.it Al momento dell'acquisto del biglietto È necessario specificare l'orario d'ingresso E cioè 16, 17, 18, 19 e 20 Per ogni ora d'ingresso sono disponibili Fino a 500 biglietti Per ulteriori informazioni Si può contattare il numero 340 14 32 291 Il costo del biglietto comprende il servizio navetta Dal centro storico alla grotta e viceversa La visita del presepe con degustazione di prodotti tipici E la possibilità di visitare il santuario Maria Santissima di Custonaci E il museo Arte e Fede Dove sono esposti alcuni pastorelli in legno, tela e colla Provenienti dalla collezione del museo regionale Pepoli di Trapani Tante le iniziative nel centro storico Il Christmas Village Con attività ludiche per i bambini con gonfiabili Trucca bimbi, Babbo Natale, La Befana Laboratori creativi, Balli di gruppo E ancora zampognari itineranti Atmosfere diffuse con la banda musicale Città di Custonaci Musica e folklore siciliano Con il gruppo folk Calabaguto Il 5 e il 7 gennaio La melodia del clarinetto di Margherita Cusenza Incanterà il pubblico a partire dalle 16 Nel centro storico di Custonaci Il 5 gennaio si continuerà alle ore 18 Sempre nel centro storico Con la musica live dei Taranbuo Con il concerto maggio a Pino Daniele Al fine di mantenere vive e attuale L'antica tradizione del presepe Il comune di Custonaci e l'associazione Museo Vivente Hanno organizzato la prima edizione Dell'arte del presepe nel centro storico di Custonaci Natale 2017 In alcune attività commerciali del centro storico di Custonaci E nel santuario Maria Santissima di Custonaci Sarà possibile visitare alcuni presepi Allestiti dalla gente del luogo Per gli amanti della gastronomia Degustazioni di sfince, cassatelle, cannoli siciliani E tante altre specialità del territorio Nelle casette in legno del centro storico Che saranno aperte fino alle 22 Domani alle ore 21 in Piazza Garibaldia A Campobello si terrà il tanto atteso evento Maurizio Indelicato & Friends Che vedrà protagonista proprio il cantante Campobellese Noto ormai a tutti per avere raggiunto la finale Della trasmissione televisiva Tussiche d'Ales Durante la serata del 5 gennaio Maurizio Indelicato sarà accompagnato Da tantissimi altri artisti di Campobello Suoi amici Che hanno voluto essere al suo fianco Per tributargli un caloroso omaggio Assieme al cantante Campobellese Saranno presenti infatti anche il gruppo rock I Tintinabula Nonché altri artisti locali A fine della manifestazione Il cantante sarà inoltre festeggiato A Palazzo Accardi Dove sarà allestita una particolare festa del dolce Con tanti e diversi tipi di dolciumi Continua l'iniziativa Domenica al Parco Che consentirà come ogni prima domenica del mese Dalle 9 alle 13 L'ingresso gratuito al Parco archeologico di Marsala Anche da Piazza della Vittoria Oltre che dal museo In concomitanza con la festività del Battesimo di Cristo La giornata di domenica 7 gennaio Sarà dedicata al tema del battesimo Nell'antica Lilibeo E si svolgerà nella chiesa di San Giovanni Battista Alboeo Che venne utilizzata come battistero Dai primi cristiani La manifestazione organizzata in collaborazione Con la chiesa madre di Marsala Prevede due distinti momenti La celebrazione eucaristica E i riti di aspersione battesimale Con le acque della sorgente Che si trova nella cripta Preseduta da padre Giovanni Butera alle ore 11 E la visita archeologica Guidata da Maria Grazia Grifo alle ore 12 La chiesa sarà aperta dal portone principale A partire dalle ore 9 E in caso di condizioni meteorologiche avverse L'ingresso al parco sarà consentito Direttamente dalla chiesa Anziché da Piazza della Vittoria La città di Marsala ha un nuovo centenario Si tratta del partigiano Rosario Parinello Che martedì ha spento le classiche 100 candeline Attorniato dai figli e parenti All'appuntamento non sono mancati il sindaco Della città Alberto Di Girolamo E i presidenti comunale e provinciale Dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Pino Nilo e Aldo Virzi Nonno Rosario infatti fu uno dei primi Ad arruolarsi nelle brigate partigiane Con il nome di battaglia di capitano Fece parte della divisione Garibaldi Nino Nannetti Operativa nel Cadore in provincia di Bolzano Dal 2012 anche presidente onorario Della sede Ampi di Marsala E finisce a Mazzara del Vallo La vincita più alta ottenuta con il lotto Nel concorso del 2 gennaio 2018 Un giocatore ha centrato un terno da 45.000 euro Grazie a una giocata complessiva da 10 euro Sulla ruota di Palermo sui numeri 2, 6 e 10 E noi con questa notizia siamo arrivati al termine per oggi Il Tg8 Informazione ritornerà come di consueto Domani alle ore 14 Una buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti